Vertenza tabacco. C'è un nuovo capitolo. Nella sede di TT di Cerbara c'è stata un'assemblea sindacale con le lavoratrici e i lavoratori. I rappresentanti di CGL, Cisle Will, hanno chiesto ai dipendenti di poter istituire un tavolo di lavoro permanente, composto dai rappresentanti sindacali e da quelli della società, per cercare di superare il momento di crisi dell'azienda. Una richiesta a cui i addetti hanno aderito. Nei prossimi giorni ci sarà dunque la creazione di questo organismo per cercare di far uscire la TT dall'incertezza che sta vivendo. Nel frattempo anche Michele Bettarelli, consigliere regionale del PD, ha chiesto alla regione di aprire urgentemente un tavolo di crisi regionale. Per monitorare, ha affermato il vicepresidente del Consiglio regionale, l'avvertenza Unitab Japan Tobacco, che rischia di pregiudicare il futuro della filiera di trasformazione e di produzione del tabacco in tutta la tavola del Tevere.